E ciao ragazzi sono Lotech e benvenuti in questo nuovissimo video del canale In questo video andiamo insieme appunto a vedere come completare la prima sfida delle sfide di Predator Che appunto ci permetteranno di andare a sbloccare la skin man mano andando avanti fino a completare tutte le sfide Appunto come vedete per completare questa sfida basta recarvi qua a fortezza furtiva a cercare appunto la navicella di Predator La navicella di Predator si trova qua come vedete nella mappa alla zona ovest appunto qua di fortezza furtiva Quindi davvero molto molto semplice di completare questa sfida, basta semplicemente andare qua e recarvi sempre fino alla vostra navicella di Predator In modo da poter completare questa sfida in maniera molto molto semplice Appunto come vedete la nave di Predator si trova proprio in questa zona qua più a nord Vi faccio subito vedere dove si trova precisamente Come vedete la navicella possiamo già intravederla qua Appunto ecco qua la navicella di Predator appunto per completare questa sfida Basterà andarvi accanto in modo da poter completare questa sfida Come vedete qua subito abbiamo completato la missione Ci stavamo anche suicidati, perfetto Qui in modo che vedete qua in alto abbiamo completato questa missione Per sbloccare appunto argomentamente lo standard di Predator In questo video ci vedete una cosa che vi è piaciuto Iscrivetevi al canale, chiedete un mi piace e venite nelle mie live Che si terranno ogni sabato dall'ora 20 all'ora 21 Detto questo ci vediamo alla prossima Grazie